Un cordiale saluto dalla redazione di Firenze Smart, in studio Marco Gargini. Per il momento il traffico scorre in maniera regolare sull'intera rete autostradale toscana e sulla FIPILI. In A1 in direzione Bologna per lavori corsie di sinistra chiuse tra Firenze Sud e Firenze Scandicci sono possibili disagi. In A12 uscita chiusa a massa provenendo da Genova. Spostandoci sul raccordo Siena-Firenze scambio di carreggiata tra Monte Rigioni e Colle di Valdessa Sud tra i chilometri 10, 820 e 13, 100. A Firenze invia delle casine per lavori alla porta telematica in vigore un restringimento di carreggiata. Muoversi in Toscana è un servizio in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio! Muoversi in Toscana